Ah ragazzi, che dire, mi conoscete ormai, sapete che io sono una persona abbastanza equilibrata, non nego l'evidenza sotto tortura, quando mi sbaglio lo ammetto, quando ci colgo ci colgo, quando ho ragione ho ragione. Sapete che io dal Milan Sassuolo 5-2 che vado contro Pioli, lo sapete che per me Pioli dopo il 5-2 col Sassuolo è finito. Ci sono alcune partite, come il 4-0 con il Napoli, e come la partita di stasera, a cui, bene o male a Pioli, bisogna fargli i complimenti. Oddio, onestamente non puoi paragonare un 4-0 con una partita dove il Milan per 60 minuti ha fatto fatica anche a fare un passaggio, però alla fine, bene o male, chi vince ha ragione. E il Milan vince la partita, secondo me, più difficile del giro, ovvero andare a Newcastle, che nonostante tutto comunque aveva 10 giocatori infortunati, tra cui il portere titolare. Allora, la partita l'ha preparata con la solita formazione obbligata, quella che si è vista contro l'Atalanta, e quella che, ragazzi, si è vista contro anche il Frosinone una settimana e mezzo fa. Di buono c'è che il Milan in Champions League ogni tanto gli si accende la lampadina e riesce a mettere in moto qualcosa. In questo momento, mettere in moto qualcosa è scattato negli ultimi 30 minuti di gioco, che, bene o male, sono una parte, diciamo, decisiva della partita. Per 60 minuti il Milan ha fatto fatica a fare qualsiasi cosa. Quando vedete la live reaction che domani mattina uscirà, vedrete un man molto nervoso, molto, diciamo, affranto e poco speranzoso. Perché? Di inizio la partita è stata molto difficile e giocata molto male. Il primo gol lo prendiamo su uno spaccamento totale tra centrocampo e difesa. Un errore che non va assolutamente fatto. Questo è un gol che, se è tipo l'ottantasettesimo, devi recuperare qualcosa, puoi prendere. Perché la squadra è spaccata, hai dei giocatori davanti ed hai dei giocatori dietro. Ma al quarantesimo, sullo 0-0, una partita che ha 2400 cose da raccontare, prendono un gol così, è da polli. Perché, ripeto, la difesa era schierata, i nostri giocatori non vanno mai ad affrontare l'avversario che si prepara al tiro e il gol lì era inevitabile. La reazione non è stata delle migliori. Tolto l'occasione di Leao, che fa un tiro a giro, che finisce tre metri fuori, abbiamo fatto uno dei primi tempi più brutti visti quest'anno. Proprio, non mi vergogno a dirlo. Nel secondo tempo, quando il Newcastle, invece che difende l'1-0, ha provato a fare il 2-0, allora il Milan ha intuito che si poteva fare qualcosa. L'1-1 arriva su un gol di 10 centimetri di Leao in gioco. Giroux, che la passa a Pulisic, che tina uno scaldamagna addosso a Dubravka, che mai importa. E il 2-1 arriva dall'intuizione di Pioli, che per la prima volta quest'anno, correggetemi se non sbaglio, indovina i cambi. Perché è vero che li ha indovinati, ma al finora non li ha mai indovinati. Segna un giocatore subentrato, e adesso qua vi snoccio davanti qualche statistica, perché ogni tanto serve farlo. L'ultimo giocatore che ha segnato, l'ha subentrato nel Milan, è stato Jovic sabato scorso contro l'Atalanta. Il giocatore precedente è stato Selemekers contro il Napoli nel famoso 4-0. Di lì in poi, statistica alla mano, nel Milan hanno segnato solo giocatori titolari. Quindi vuol dire che la lettura della partita da parte di Stefano Pioli spesso ha qualche lacuna. Non oggi che, bene o male, ha messo praticamente tutti gli attaccanti in campo e uno ha fruttato, che è stato Cucuweze. Che è un giocatore che alterna prestazioni buone a prestazioni meno buone, però avrebbe bisogno di un po' più di continuità. Quello va detto. Segna il gol che Leao non ha segnato nel primo tempo. Lo segna anche bene. Poi di Milan fa un ottimo controllo della partita, cosa che purtroppo è mancata in altre situazioni. Cosa che è mancata a Lecce, cosa che è mancata a Napoli, cosa che è mancata anche contro il Frosinone. Perché è vero che sia 3-0, ma quella partita doveva finire 3-0 se non 4. A differenza di altre situazioni, ripeto, ha includo anche la partita di sabato con l'Atalanta, dove il Milan poteva tranquillamente giocare per il 2-2, invece non l'ha fatto. Ha gestito bene la cosa, non ha rischiato niente da lì alla fine. Peccato questi errori. E qua per quello detto all'inizio, che vi siete cagati troppi gol. Ternandez a porta vuota tira una pisciatina che recupera il difensore. E Tomori che sbaglia quel gol. Poi vabbè, era Tomori, ci fosse stato Cucuweze, non avrebbe fatto un altro. Peccato perché quella partita, secondo me, 3-1 poteva finire. Detto questo, andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio. Il migliore in campo, io, azzardo, megnano. Perché fa una parata su, chi era Longstaff forse, non ricordo, una parata della Madonna. Deviando con l'avambraccio la palla sulla traverza, ha fatto una parata di Cristo. E già comunque sabato con l'Atalanta aveva salvato il 3-1. Ve lo dico. Buona prestazione, anzi, ottima di Tomori, che insieme a lui sono le uniche due garanzie in difesa, oltre a essere gli unici due non infortunati. Male Ternandez, malissimo ragazzi, veramente male. Attacco e difesa pietosi. Medioca e Florenzi. Malissimo Calabria, che si fa saltare come un birillo, ma questa non è la novità. A centrocampo Musa e Reinders sbagliano tanto, perché sbagliano tanto, comunque fanno legna, ma non sbagliano mai quanto ha sbagliato l'Oftus-Cheek. Che per me, insieme a Ternandez, viene giudicato peggiore in campo. Intuizione di Pioli che lo sostituisce. Il punto è che viene sostituito con Pobega, che è un fenomeno che è un fenomeno non è e non sarà mai. Però almeno se Pobega in quel momento ci stava più con la testa si è visto e quel che doveva fare l'ha fatto. Leao rientra da un infortunio, si prende un palo, si cacca un gol anche lui, anzi due. Sicuramente deve rimettere i minuti nelle gambe Leao, quindi oggi non me la sento di giacare tra i peggiori. Comunque non sufficiente la sua partita, però non ai livelli di Lottus-Cheek e di Ternandez. Bene Pulisic, segnalo gol, scagionato. Giru male, Giru male anche lui. Ripeto, non ai livelli di Lottus-Cheek e Ternandez, perché loro hanno avuto tante palle. Giru già è uno che non si muove in più, se non gli arrivano non può fare niente. E quindi, ragazzi, prestazione insufficiente. Unico, grosso errore di Giru sul 1-0, sul 1-1. Ha una palla, con due dimensioni davanti. Pulisic che sta scattando, non la passa, la dà a un giocatore marcato e l'azione riparte. Quello è l'unico errore che li so attribuire. Gli altri giocatori, bene o male, Okafor comincia da Adito alla galoppata che porta al gol. Del 2-1, Jovic si porta a casa un altro assist, quindi per la terza partita consecutiva. Anzi, quarta, perché contiamo anche quella con la frentina. Assist per il rigore. Gol e assist. Gol, assist oggi. Ha fatto più di Giru. Quello, quello assolutamente. Magari, ripeto, se lui... Ho sempre detto che Jovic è un giocatore che il talento non gli è mai mancato. E ci ricordiamo dai tempi di Francoforte, che è un giocatore che il talento non gli manca. Per me a Francoforte, io la butto lì, era più forte di Rebic. Assolutamente. Vediamo se, con questa nuova avventura, riesce un po' a... a rimettersi in gioco come giocatore. Perché non vorrei facessi la fine di tanti giocatori simili a lui. Detto questo, Pioli, oggi Pioli si porta a casa un otto, ragazzi. Io sono sempre favorevole al suo esonero. Sono sempre convinto che il Milan, durante queste partite, senza big match che abbiamo, in questo inverno, dovrebbe cambiare allenatore. Sono sempre convinto che dovrebbe farlo, però... Per quanto riguarda la partita di oggi, quando lui è sotto i flettori nel senso, o se perdi vai fuori, lui vince. Dovrebbe essere così tutte le partite, ragazzi. Non so cosa succederà domenica contro il Monza, non ve lo so dire, però... Se c'è una cosa che si può dire, buona Europa League, godiamoci la vittoria finché possiamo, perché domenica, ragazzi, torniamo sul pianeta Terra, chiamato Serie A, e tutto può succedere. La prossima partita di Coppa sarà contro il Cagliari in Coppa Italia, e del resto ci saranno nel mezzo, tipo 5, no, 3-4 partite di campionato. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima, date tutto un bacione, statemi bene e ci si vede.